Ma intanto credo che il generale Vannacci abbia poi chiarito qual è la sua posizione ma soprattutto la nostra posizione è chiara e risiede anche nel mio operato quotidiano in quello di questo governo e in quello della Lega che ha voluto il Ministero per le disabilità e che ci crede fortemente. Quindi non è assolutamente in dubbio questo tema credo che, come ha chiarito lui, non è in dubbio naturalmente per noi. Io ogni giorno testimonio come l'Italia sia un modello positivo non solo per l'Europa ma proprio per tutto il mondo perché abbiamo una legge sull'inclusione scolastica e soprattutto nel nostro paese facciamo riferimento alla Convenzione ONU che in tanti si dimenticano che è legge nel nostro paese ormai da 15 anni. E quindi io mi sento di dire anche che questa polemica forse dura anche troppo perché stiamo parlando di parole mentre fino a dieci giorni fa io ho cercato di portare all'attenzione il più possibile, in realtà lo sto facendo ancora oggi, il tema della riforma sulla disabilità. Quindi fatti concreti, leggi che cambiano, vita delle persone che davvero cambia in questo senso perché attraverso il decreto attuativo sul progetto di vita noi facciamo una rivoluzione nella presa in carico della persona con disabilità. In proporzione mi pare che bisognerebbe parlare di più di queste cose.